10 milioni di euro per finanziare la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto nelle abitazioni civili. Il governo musumeci ha dato il via libera definitivo all'utilizzo dei fondi POC 2014-2020, recentemente riprogrammati per incentivare i privati a bonificare le unità immobiliari in cui è presente il pericoloso materiale. Con questo provvedimento, sottolinea il Presidente Musumeci, diamo finalmente attuazione ad una legge regionale mai applicata nel passato e forniamo un aiuto concreto ai siciliani che vogliono liberare i luoghi in cui vivono da un pericolo serio e costante. Diamo loro una mano a sostenere i costi significativi e garantiamo uno smaltimento in linea con le normative nel rispetto dell'ambiente, più sicurezza dunque e meno di scariche abusive. Per l'accesso e l'erogazione dei contributi, l'amministrazione regionale, spiega l'assessore Daniela Baglieri, attraverso il nostro Dipartimento pubblicherà uno specifico avviso che definisce i criteri e le procedure per usufruire dei benefici. Sono certa, conclude Baglieri, che i siciliani sapranno cogliere questa straordinaria opportunità. Grazie a tutti.